Tutti gli esperti, anche i medici di famiglia, conoscono l'osteoporosi causata dall'utilizzo prolungato dei cortisonici, però non c'è solo questa come osteoporosi secondaria e quindi iatrogenica, ce ne sono diverse altre e ne ha parlato il professore Ranuccio Nuti qui a Roma in occasione del 14esimo congresso nazionale della SIOMS. Allora professore, quali sono queste osteoporosi iatrogeniche, oltre appunto a quella del cortisone, quali sono gli altri farmaci che possono dare questo tipo di problema? I farmaci che possono incidere sul metabolismo scheletrico sono obiettivamente molti. Quando noi parliamo di effetti negativi di farmaci sullo scheletro, però dobbiamo focalizzarci sempre sul dato clinico, vale a dire sui dati presenti in letteratura su questi farmaci in grado di indurre da un lato riduzione della densità scheletrica, ma dall'altro soprattutto la capacità di incidere sul rischio fratturativo. Nella relazione che ho svolto al congresso SIOMS, ho focalizzato l'attenzione prevalentemente su quattro aspetti. Il primo è stato quello sulla potenzialità, ahimè negativa, che sono in grado di esercitare dei farmaci che vengono utilizzati nel cancro, nella prevenzione, nella terapia del cancro della mammella e della prostata. In questo settore, al di là della negatività legata al cancro, la terapia inibitrice dell'aromatasi per quanto riguarda il cancro della mammella per un verso e l'attività antrogenica dei farmaci che vengono utilizzati nel cancro della prostata, sono in grado in realtà di indurre una riduzione significativa della densità scheletrica e di provocare un aumentato rischio di frattura. Questo non vuol dire assolutamente non utilizzare questi farmaci, ma vuol dire soprattutto porre attenzione sull'uso di questi farmaci, facendo sì che insieme alla terapia standard che viene utilizzata per i cancri rispettivamente della mammella e della prostata, possa essere iniziata anche una valutazione metabolica di questi soggetti, metabolica, densitometria, in modo da associare alla terapia, ora con l'inibitore dell'aromatasi, ora con le farmaci antiandrogenici, un inibitore di riassorbimento osseo che possa quindi limitare gli effetti negativi di questi farmaci. Quindi se non altro deve essere, e ad oggi obiettivamente non c'è, posta l'attenzione sull'effetto potenzialmente negativo di questi farmaci e ripeto devono essere utilizzati per l'obiettivo primario ma che dovrebbero essere comunque associate ad un'attenzione specifica sul problema. Professore, fin da subito andrebbero usati, cioè parte la terapia antitumorale, parte la terapia antirriassorbitiva? Sostanzialmente sì, priva però deve essere valutata, come gli ho detto, la situazione metabolica dello scheletro e densitometri in modo da vedere se ci sono persone particolarmente a rischio e su queste è indubbiamente opportuno iniziare subito una terapia. Ecco, oltre ai due esempi che ci ha fatto ce ne sono altri? Ma un altro che a mio modo di vedere è molto interessante riguarda l'utilizzo dei farmaci antidepressivi perché noi dobbiamo renderci conto che già di per sé la depressione è un fattore di rischio per l'osteoporosi, chi ha una depressione ha un cambiamento sostanziale al proprio stile di vita, ha una riduzione dell'attività fisica, diciamo anche la nutrizione subisce in qualche modo un'alterazione, quindi c'è di per sé già un aumento del rischio di osteoporosi nel malato depresso. Quando questi soggetti vanno in conto a una terapia a lungo termine, per esempio con inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina, al di là dell'effetto benefico che questo ha sul tono dell'umore, però si innesca un meccanismo complesso patogenetico e può portare anche qui un aumento del rischio fattorativo. E quindi questo aspetto che sembra si correli anche con la durata del trattamento antidepressivo dovrebbe essere tenuto presente. Questo non vuol dire iniziare un'altra terapia ancora per ridurre il rischio di frattura, ma vuol dire porre attenzione a questo potenziale rischio e quindi far sì che il paziente venga monitorato nel tempo e laddove per esempio si dovessero associare altri fattori di rischio, perché anche questo è stato visto, ebbene allora in quelle condizioni è opportuno iniziare una terapia specificamente antiassorbitiva. Grazie per la visione!